Frequentavo casa Padula e c'era questa presenza continua di Maria. Era sempre in mezzo a noi, a raccontarci cose, a darci consigli. Stranamente i giovani si stancano quando gli adulti sono sempre presenti. Lei no, lei era una piacevole compagnia. E devo dire che quando vado a casa la vedo girare fra quelle stanze, la vedo nella stanza del pianoforte e soprattutto la vedo rispondere alle mie mille domande perché quella casa all'epoca già per me era un museo, c'era di tutto là dentro. Per cui la mia curiosità era tantissima, ponevo domande e lei rispondeva proprio con gioia.